Musica Bentrovati a una nuova puntata di Parola al Direttore, sempre naturalmente sulle fonti tv e sempre dalla redazione di Libero con il direttore editoriale Vittorio Feltri. Vittorio, bentrovato. Grazie, grazie, un saluto a tutti. Partiamo dallo scenario in cui ci troviamo, uno scenario diverso rispetto al mese scorso, mi riferisco a quello politico, abbiamo un nuovo presidente del Consiglio, Mario Draghi, abbiamo un nuovo esecutivo, forse tutto questo più nella forma che nella sostanza, perché la sostanza la vedremo poi, però ti chiedo subito un tuo giudizio in merito, cosa ne pensi del nuovo governo? Ma la cosa che più mi ha stupito di questo cambio è stato il tributo di entusiasmo che si è elevato in tutti i settori italiani a favore di Draghi, che sicuramente è una persona seria, io non posso certo metterlo in dubbio. Però io di solito vedo che, non so, anche a teatro, prima che l'orchestra suoni, sono tutti zitti e poi eventualmente l'applauso arriva alla fine. Qui invece è arrivato l'applauso prima ancora che Draghi cominciasse a lavorare. Io aspetterei di vedere i risultati, siccome per il momento i risultati ovviamente non se ne possono apprezzare, perché è passato poco tempo dall'insediamento, per cui io osservo con freddezza che continuiamo a non avere i vaccini, continuiamo ad ammalarci, continuiamo a rimanere chiusi, nel senso che per chiudere tutto bastava Conte, non c'era bisogno di mettere Draghi, ecco io faccio questo ragionamento molto terra a terra. Poi che sia cambiato il governo non mi pare tanto, perché Speranza è rimasto a fare il ministro della Salute, poi altri ministri sono rimasti al loro posto, quindi non riesco a vedere in che cosa possa consistere il cambiamento, se non a Palazzo Chigi nel senso del Presidente. Però appunto si tratta di vedere quello che riuscirà a fare. Infatti forse la differenza è proprio questa tra forma e sostanza, perché come forma si dice con Draghi magari l'Italia potrà avere un biglietto da visita diverso, maggiore credibilità, anche su questo ti chiedo cosa ne pensi. Nella sostanza è ancora presto per dirlo, anzi in realtà quello che hai detto tu è vero, già nella sostanza possiamo vedere che non è cambiata la situazione. Anche se poi la reazione dell'Italia è diversa, cioè Draghi sta tenendo chiuso ancora quello che era chiuso prima, come esattamente faceva Conte, però la reazione degli italiani è un po' più pacifica, su Conte ci si scagliava di più. Io questo non l'ho verificato, anzi mi sembra di vedere che adesso la gente comincia a essere insofferente e tenda alla disobbedienza, proprio perché non ne può più, ne ha le scatole piene. Dopodiché però non si lascia andare del tutto perché è terrorizzata dalla malattia e questo va capito. Però insomma, sì d'accordo, Draghi è una persona autorevole, tutto quello che vuoi, però è stato all'inizio un bancario molto bravo, poi un banchiere è bravissimo, ma non è detto che un bravo cantante possa anche suonare il violino, quindi non riesco a capire come si possa dire, ah che bel premio che abbiamo, vediamo cosa saprà fare. Anche perché le istituzioni sono assolutamente diverse e peraltro come hai detto tu la squadra di governo insomma ricalca un po' quella precedente, non è cambiato molto. Il sistema anche mi verrebbe da dire… No ma scusa se ti interrompo, c'è anche un problema di maggioranza, la maggioranza è diciamo composita, è una specie di zoo dove ci sono tanti animali diversi l'uno dall'altro, non riesco a capire come si possa guidare una squadra si fatta, ecco questo credo che anche per Draghi sia un bel problema. Infatti questa sarebbe stata la mia prossima domanda e te la faccio subito, l'hai già definito uno zoo, questo governo proprio per la presenza di anime diverse, l'unica parte che è rimasta fuori è Fratelli d'Italia, di Giorgia Meloni, quindi non credi tu in un governo di unità nazionale così come viene definito, cioè il fatto che più forze politiche riescano a collaborare insieme, no? Non sono tanto d'accordo anche perché le forze politiche sono una diversa dall'altra, faccio un esempio che, Salvini è favorevole alla chiusura dei porti, poi invece abbiamo la Morgese che è rimasta al posto suo, cioè la Viminale che invece apre a tutti i cani e porci e allora come si fa ad andare d'accordo? Unità nazionale, sì è una bella parola ma poi nei fatti come la puoi ottenere? Io non credo, è retorica questa, il fatto che la Meloni sia stata fuori secondo me è segno di intelligenza politica della ragazza, la quale ha capito che rimanendo solo partito fuori dalla Bolgia avrà avanti a sé delle praterie di volti da conquistare e in effetti già nei primi giorni ha già raccolto molti consensi in aggiunta a quelli numerosi che già aveva, quindi credo proprio che la Meloni sia la persona più saggia politicamente e che riesce a leggere il quadro politico in modo lucido. Insomma è vista un po' come coerenza politica in questo caso, quindi mi ricollego a Salvini, alla Lega, come la consideri la scelta invece di partecipare al governo? Incoerente? Troppo, come dire, affrettata? Non so, come la consideri? Affrettata la trovo poco coerente, nel senso che la mia impressione è che Salvini, il quale pure mi è simpatico, però si sia un po' imborghesito e abbia perso un po' di, diciamo così, di freddezza per valutare le situazioni. A proposito di Conte, l'abbiamo già nominato, lo vedremo ancora l'ex Presidente del Consiglio? Non riesco a capire come possa rimanere sulla scena politica, visto che lui non è neanche stato eletto dal popolo, quindi non è in Parlamento, non è né deputato né senatore, ha terminato il suo mandato di Presidente del Consiglio e allora deve aspettare le prossime elezioni, se vuole ributtarsi nel lagone politico. Ma non lo so che intenzioni abbia, comunque indubbiamente Conte c'è stato un periodo in cui la sua popolarità è stata molto elevata e lui è stato anche apprezzato, poi però quando la gente ha visto che le cose non cambiavano e che si rimaneva sempre tutti in stato di paralisi, ha cominciato un po' a smuffare e adesso che se n'è andato nessuno ne parla più. Infatti è un po' evaporato in questo momento, si parlava di un suo partito politico, ma è tutto da vedere, in questo momento non ci credi. Qui quando uno non sa cosa fare fonda un partito politico, che poi non combina niente. Ma tu non lo fondi un partito politico. Ma per la mia, io lo affondo semmai. Va bene. Movimento 5 Stelle, credi che uscirà realmente spaccato da questo appoggio al governo Draghi? Perché insomma sappiamo che cos'è accaduto e soprattutto sappiamo anche qual era il DNA, dico qual era perché non è più quello di una volta, del movimento di Beppe Grillo. Guarda, io devo dire solo una cosa, che il movimento di Grillo è stato fondato su una base ideologica piuttosto fragile. Io penso che anche gli ascoltatori, chi ci guarda, lo sappia. Ha fondato un partito, Grillo, sulla base del Vaffa. Vaffa cosa vuol dire? È diciamo una forma contratta di vaffanculo. Per cui penso che questo partito sia destinato ad andare a fanculo. Qualcuno c'è già andato? Sì, ci sono ovviati. No, nel senso buono, per esempio Di Battista, che è sempre stato quello che invece più, perché bisogna dirlo, coerente al DNA del Movimento 5 Stelle iniziale, nel momento in cui c'è stato l'appoggio a Draghi, niente, si è fatto da parte. Delle vicende interne del Movimento 5 Stelle mi appassionano poco. Va bene, quindi cambiamo discorso. Va bene, sicuramente. L'ultima domanda sull'altro partito di maggioranza, adesso sono quasi tutti partiti di maggioranza, il Partito Democratico, anche lì sembrerebbero esserci delle frizioni, effettivamente, forse per motivi diversi, non so, per aver, tra virgolette, accettato, anche se non potevano fare diversamente, partiti come la Lega, in maggioranza, con i quali non hanno niente a cui vedere, insomma. Lo so, infatti sono dei matrimoni che non possono durare, questo ce lo dobbiamo dire, dopodiché può darsi che Draghi riesca a mediare, a tenerli insieme per qualche mese, ma non credo molto più a lungo. Io sono convinto che il Partito Democratico abbia subito più danni, non tanto dall'avvicinamento con la Lega, ma dal fatto che ha trascurato le donne. Intendiamoci, donne che fanno politica sono sempre poche, una netta minoranza, per cui diventa difficile anche promuovere, perché se tu scegli su un bacino maschile molto vasto, quattro scemi li trovi, mentre invece se le donne sono poche, fai più fatica a sceglierne alcune da mandare al governo. Però, insomma, è anche un problema proprio di immagine, non inserire delle donne del partito, ha penalizzato questo partito, perché la Lamorgese non è scritta PD, la Cartabia è tutt'altro che del PD, insomma, sono donne brave, quindi per trovare delle donne brave devi uscire dalla politica, anche per mettere in posti di responsabilità. E la Cartabia e la Lamorgese sono la dimostrazione. Insomma, sempre di più la politica che fallisce, nel senso che sarà qualcosa di retorico, ma è vero, sempre più figure esterne, tecniche, perché non piace questa parola, però è realmente così, che si mettono a disposizione della politica, considerando però quanti politici ci sono, effettivamente è abbastanza poco rassicurante per il sistema politico italiano. C'è una mediocrità nel mondo della politica che si è accentuata negli ultimi anni, questo dobbiamo dire, dopo lì che anche in passato non è che ci fossero solo dei campioni del mondo, però adesso siamo veramente raso terra. Come in tutte le cose, assolutamente. Allora, arriviamo all'argomento più spinoso, credo che tu sia d'accordo con me, direttore, nel momento che è quello dei vaccini, che peraltro si inserisce in quello che già abbiamo raccontato, cioè nella panoramica legata al Covid, dalle restrizioni, che nonostante insomma il governo sia tra virgolette cambiato, almeno la guida, insomma più di tanto non potrà fare, se la situazione esterna non cambia c'è quella dei vaccini. E siamo in un momento in cui ancora davvero ci rendiamo conto quanto poche persone siano vaccinate e quindi questo dilata i tempi, cioè non c'è minimamente una luce all'orizzonte per questo motivo. Sì, ma c'è una spiegazione molto semplice e triste. Noi ci siamo affidati all'Europa, perché facciamo parte dell'Europa, come se fosse un grande onore, un grande privilegio essere in Europa, ma in realtà l'Europa non è stata capace di comprare i vaccini. Quindi vuol dire proprio che siamo di fronte non tanto a un ente inutile, ma a un ente dannoso. Questo non dobbiamo dirci. Una lezione in questo senso ci è venuta dalla Repubblica di San Marino, che è uno sputo, come sappiamo sono 36 o 37 mila abitanti, dove il governo locale, che è un governo terra-terra, nel senso che i governanti hanno in piedi per terra, hanno comprato una quantità sterminata di vaccini dalla Russia, il cosiddetto sputling, e adesso stanno vaccinando tutta la loro popolazione. È quello che doveva fare anche l'Italia. Se non comprava lo spot, se ne comprava un altro, invece l'Italia non ha comprato niente, impossibilitata dal gesso impostoci dall'Europa. Allora, se stare in Europa ci porta allo svantaggio che non possiamo neanche comprarci i vaccini, vuol dire che è meglio fare come l'Inghilterra. Attraverso la Brexit ha conquistato una tale libertà per cui adesso in Gran Bretagna si fanno vaccini a tutto spiano, mentre da noi non si fa niente, si fa poco. Poco è che non serve, diciamo, risolvere il problema della malattia e dei contagi nel nostro paese. Allora, cosa bisognava fare? È chiaro che il vaccino è un prodotto qualsiasi, come tutti gli altri, come le cravate, come le mutande, come la frutta e verdura. Dove si compra? Al mercato, no? Al mercato questa merce. E allora anche il vaccino, che è un prodotto, si compra sui mercati internazionali. Con i soldi in tasca si va e si compra. Un po' come è stato fatto per le mascherine, sulle quali adesso c'è uno scandalo cretino, perché le mascherine non c'erano. Poi sono arrivati dei signori bravi e furbi che hanno fornito all'Italia milioni di mascherine, ovviamente facendoci la cresta, perché nessuno lavora per niente. Do, ut, des è un principio millenario, quindi dov'è il problema? Però le mascherine sono arrivate e prima non c'erano. La stessa cosa andava fatta col vaccino. Si va sul mercato internazionale con i soldini in tasca e se costano di più rispetto, diciamo, ai canali istituzionali, chi se ne frega. Poi i vaccini, non è detto che si debbano fare gratis a tutta la popolazione. Si fanno gratis ai 5 milioni di poveri che ci sono in Italia, che altrimenti sarebbero in difficoltà. Tutti gli altri paghino il vaccino, 50, 60, 100 euro. Per l'amore di Dio, non ci mancheranno 50 euro in tasca quando spendiamo 100 euro per andare a sentire dei concerti di musica valorda. Oppure andiamo allo stadio, andiamo allo stadio e spendiamo... Sì, sì, ma anche perché se non ci vacciniamo non possiamo più andare neanche ai concerti o allo stadio. Da nessuna parte. Non è pre niente, quindi voglio dire... Quindi questo è il problema dei vaccini. Andavano comprati, ma nessuno qui ha usato Fanno perché è l'Europa. Il terrore dell'Europa. Ma un'Europa che ti impedisce di prendere i vaccini è un'Europa dalla quale scappare. Ma più che altro, certo, quello sì e soprattutto nel momento in cui le aziende farmaceutiche non rispettano i patti presi con l'Europa. Sì, ma bisogna vedere come sono i contratti. Certo. Ma i contratti li ha fatti la gallina. La gallina. Si chiama gallina? Non è che sia una gallina. No, no, no. Col becco. Stavo dicendo, specifichiamo che assolutamente... Ha fatto dei contratti a capocchia e adesso siamo in questa situazione. Assolutamente. Sì, adesso si sta agendo un po' al contrario della serie. Draghi ha puntato un po'... Ha battuto i pugni dicendo le aziende che non rispettano i patti vengano poi penalizzate. Sì, però... Sì, penalizzate e non gli compri il vaccino. E quindi già non lo compriamo, quindi che penalizzazione è? No, ci penalizziamo noi. Anche Draghi, pugni sul tavolo, sono capaci anche io di darli. Invece bisogna agire, agire, comprargli questi vaccini dove ci sono, non in Europa dove non ci sono. Anche perché poi, ecco, poi cambiamo un attimo discorso per arrivare a conclusioni. Queste varianti di cui si parla, in questo momento, che non sono ancora specificate, però fanno paura. Quindi motivo in più che bisogna anche accelerare da quel punto di vista. Anche perché se no, torniamo anche al discorso di prima, la gente non ce la farà sempre di più nel momento in cui si sente dire non puoi più, non puoi ancora uscire di casa, non puoi fare quello che facevi prima. Però nel frattempo, vedere anche che tutta la situazione vaccini è ferma. Cioè, viene proprio rabbia per quello. More solito. Io non credo che possa cambiare se non arrivano questi benedetti vaccini. Tra l'altro, le varianti perché fanno paura? Perché sono ancora sconosciute. Si sa poco. Gli stessi specialisti hanno dei dubbi. Però, io ho parlato con Burioni e mi ha detto che le varianti vengono eliminate dai vaccini normali che sono in commercio, che sono in circolazione. Quindi, io personalmente non mi sono tanto spaventato. Mi rendo conto che chi non è meglio informato possa anche essere terrorizzato da queste nuove forme misconosciute. Sì, sembrano cose delle figure mitologiche in questo momento. Se non ci chiariscono, effettivamente la paura poi continua a esserci. Adesso, ovviamente, una domanda sull'economia perché chiaramente in questo contesto siamo assolutamente penalizzati e limitati. Cioè, dobbiamo cominciare a ragionare sulla crescita e invece non possiamo ancora farlo perché addirittura, se pensiamo alla ripresa... Non di crescita, perché anche qui c'è da fare la differenza. Noi dobbiamo puntare alla crescita, ma per ora intravediamo solo la ripresa nel 2022, neanche quest'anno. Scusa, cosa vuoi che cresca l'economia italiana quando molte attività sono bloccate? Tutto il terziario è bloccato, i bar sono bloccati, i ristoranti sono bloccati o semi bloccati. Poi i colori qui cambiano ogni 5 minuti e non si capisce niente. Poi il turismo è bloccato. Diciamo, le attività ludiche sono quasi tutte bloccate, le palestri sono chiuse. Insomma, c'è un settore che vale più del 10% di più, che è immobile, che non può fare niente. Ovvio che questo incida sul bilancio totale dell'Italia. Quindi è un'illusione parlare di adesso cresciamo, ricominciamo, non ricominciamo, beh niente. Fintanto che non saremo vaccinati, fintanto che le attività terziali non riprenderanno a pieno ritmo, noi saremo in una situazione molto, molto delicata. Esatto. con tutti i settori penalizzati. Facciamo così, in chiusura, Vittorio, visto che noi abbiamo anche in sospeso tante questioni, lo so, lo so, però purtroppo dobbiamo accantonarle perché... è il freno del virus, il nostro nemico è il Covid. Facciamo una sfida, quando i vaccini saranno realmente sulla strada giusta, allora lì ne riparleremo. quando l'avremmo fatto tutte e due il vaccino. Volevo dire quello, ma noi almeno siamo sicuri, non diamo scandalo, non servono scandali. Anche buon esempio. Anche buon esempio, assolutamente. Grazie direttore Vittorio Feltri, ci vediamo il prossimo mese sempre con parole al direttore. Grazie.